Ragazzi, oggi su MiniFootball shopperò solamente per voi. Farò tre rigori fortunati e spenderò ben un euro e 99. Vabbè, due euro. Se farò gol, dovete lasciare un mi piace, ok? È molto importante. E ovviamente iscrivervi al canale. Ok, raga, se prendo il bersaglio dovrete far iscrivere tre vostri amici. Va bene? Questa è la sfida, eh? Se prendo il bersaglio, uno qualsiasi, let's go, il blu, top! Abbiamo anche i premi, raga, apriamoli super veloce. Vediamo che cosa troviamo. Carte che abbiamo già, ovviamente, eh. Ok, prossimo tiro lassù in alto. Il rosso. Ed è un pacchetto super, Francesco, cart, Demir, pantalocini e calzettini. Ultimo tiro, raga. Ultimo tiro! Peccato, iscriviti e lascia mi piace. Ho preso due bersagli.